Fischer RC4 The Carve 120 Vacuum, uno scarpone molto sportivo e leggero ad alte prestazioni con calzate di ale per piedi medio-larghi. Dotato della scarpetta termoformabile 3D, preformata e vacuum technology, offre un'eccellente vestibilità e una perfetta tenuta del tallone. Le suole Grip Walk garantiscono una presa perfetta quando sei in movimento. Ha una vestibilità anatomica con una pianta di 105 mm. Il testato a secco mi ha impressionato proprio la facilità di calzata e soprattutto l'uscita. Sembra veramente di mettere una ciabatta. Quando lo indossi è comodo, stringe molto sul tallone e invece molto largo sulla pianta del piede. Quindi ideale, uno scarpone ideale per chi ama il tallone bello fisso e bloccato, ma allo stesso tempo può muovere le dita dei piedi e sente la pianta molto largo. Ho provato a secco, scarpone molto semplice da calzare e da togliere. Tuttavia l'ho trovato molto comodo, sì, anche per via della sua pianta 99 di Last. A mio avviso l'ho percepito sul mio piede un po' vuoto, sia nella parte della pianta, sia nella parte e soprattutto nel tallone. Proviamo a infilare il nostro piede. Il mio piede, scusate. Entra molto facile. Vediamo a chiuderlo. Direi che la chiusura anche lei è facile. Chiudiamo lo scrap e andiamo a regolare bene la regolazione. All'interno è il comfort, perché tutta la parte della pianta io la sento molto abbondante e anche il tallone non è fisso. Invece sento molto bene avvolgere il campanetto. Proviamo ad uscire. Posso dire che si entra e si esce con facilità da questo Fischer RC4 DeCarve 120. Grazie a tutti.